Dopo l'ennesima vittoria importante dell'Inter, un commento ha catturato l'attenzione dei tifosi. Sandro Sabatini, giornalista del sito calciomercato.com, ha analizzato la prestazione dei nerazzurri contro l'Atalanta e ha portato alcune interessanti riflessioni sul rendimento della squadra e sulle prospettive per il futuro. Ha sottolineato l'inizio della partita dell'Inter, l'impatto di alcuni giocatori chiave e la crescita della squadra sotto la guida di Simone Inzaghi. Se volete saperne di più sull'analisi del giornalista e su cosa crede accadrà all'Inter, non dimenticate di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale per continuare a seguire tutte le novità della squadra nerazzurra. Sabatini inizia parlando del primo gol, che ha portato l'Inter in vantaggio nei primi secondi di gioco. Secondo lui, anche se c'è stato un tocco contro un suo autogol che ha contribuito a sbloccare il punteggio, la firma di Marcus Turam come giocatore decisivo rimane evidente. Per Sabatini Turam è un vero campione che lascia il segno in ogni partita. Crede che, con giocatori come Turam, l'Inter non solo esibisca lo scudetto di campione con orgoglio, ma anche con molta convinzione e determinazione. E se le cose continuano ad evolversi come sembrano, l'Inter ha già avviato il cammino verso altre vittorie, sia nel campionato italiano che nella Champions League, che deve ancora arrivare. Il giornalista sottolinea anche come l'Atalanta abbia sofferto di fronte a quella che lui stesso definisce la legge dei nerazzurri, che si basa sulla forza e sull'intensità della squadra. Elogia la forza della squadra di Nzaghi in campo, non solo in termini di qualità, ma anche di intensità di gioco, durante tutti i 90 minuti, recupero compreso. Sabatini commenta che, quando l'Atalanta sembrava iniziare a reagire, l'Inter aveva già preso il controllo completo della partita, facendo capire chi fosse la capolista in campo. Menziona anche che la squadra è in perfetta sincronia, come se seguissero una colonna sonora che annuncia che i leader del campionato se ne vanno. Un altro punto che sottolinea il giornalista è l'intelligenza tattica della squadra, soprattutto nella zona del campo dove Pavard e Darmian lavorano insieme, controllando la parte destra del campo. Nota che questa parte della squadra è particolarmente forte, con Barella e Turam che si distinguono come veri fenomeni. Ci tiene però a non dimenticare di citare anche gli altri giocatori, che definisce giganti, come Acerbi, che secondo lui sta migliorando sempre di più nel tempo. Per Sabatini tutti meritano un plauso, perché secondo lui questa è stata la migliore Inter che abbia visto da quando Inzaghi guida la squadra. Sabatini infine precisa che alla terza giornata di campionato l'Inter ha dimostrato di essere ancora migliore rispetto allo scorso anno, il che è un ottimo segnale per i tifosi che sognano altri traguardi in questa stagione. La squadra sembra consolidarsi come una delle grandi forze del calcio italiano ed europeo, con una squadra ben affiatata e giocatori ad alte prestazioni. E tu, tifoso nerazzurro, sei d'accordo con l'analisi di Sandro Sabatini? Credi che questa sia la migliore Inter che abbiamo visto con Simone Inzaghi? Lascia la tua opinione nei commenti qui sotto.